Ibrahimovic ha un trauma, che ho spiegato in vari video. Il trauma è che dopo Barcellona, dove non ha contato nulla a livello di spogliatoio, e ha dimostrato lì di essere un fallito. Per me il giocatore è fantastico, Ibra per me è uno dei più grandi della storia, perché Ibra è fantastico. Lui se la sente troppo, ma in certi spogliatoi il leader non è il leader Tamarro. C'è il leader silenzioso, c'è il leader interno e il leader esterno. Chi ha fatto sociologia lo sa benissimo la differenza tra la moglie è il leader interno e il marito è il leader. Cioè ci sono tante figure di leadership. Lui non è nulla di tutto questo. Lui è un melting pot di nulla, perché non eccede in nulla se non nella sua classica tamarragine di quel calcetto tirato alto che ha stancato, perché è 40 anni, va Laura. Ora, lui dopo Barcellona entra in una fase di vita in cui va da Moratti in ginocchio, in ginocchio per tornare, dice riprendimi, il Milan mi ha cercato, ma io voglio...